Il guaio della ristorazione italiana? Non trovare personale qualificato. Quante volte si è sentita dire questa frase? Un progetto europeo cerca di porre rimedio, progetto ospitato da Fondazione Fico, al grande parco agroalimentare di Via Canali e dedicato agli chef, ascoltando i ristoratori per capire cosa manca in termini di specializzazione e capacità di stare al passo con le esigenze attuali. L'istituto ufficiale che forma i ragazzi per il nostro lavoro sono le scuole alberghiere che a volte sembrano un pedino rimaste indietro col passaggio dei tempi. Il progetto Culinarte è un progetto europeo finanziato dal programma Erasmus+, dell'Unione Europea. Il programma Erasmus+, prevede il rafforzamento della formazione e dell'istruzione nell'Unione Europea. Il progetto Culinarte riguarda principalmente la progettazione e la realizzazione di una nuova qualifica professionale nell'ambito delle arti culinarie e gastronomiche con l'obiettivo di compensare quelle competenze che il mondo del lavoro non riesce a riscontrare con l'obiettivo ultimo di andare ad aumentare l'occupabilità degli studenti e degli adulti nel settore della ristorazione. Masterchef e i suoi nipotini, la sovraesposizione mediatica del lavoro in cucina rischia di dare un'immagine sbagliata di una professione che lontana dai riflettori richiede grande applicazione. La parte patinata del lavoro, tra la realtà che il lavoro di cucina è un lavoro duro, è un lavoro faticoso e chi lo intraprende deve avere conoscenza di quello a cui va incontro. Quindi una preparazione, quella che una volta si chiamava la gavetta, non sono preparati a quello che è un lavoro di cucina. ci si aspetta che in cucina sia belli tutti a mettere giù la fogliolina con le pinzette piuttosto che a fare la mousse ma soprattutto c'è un lavoro precedente a tutto questo che in tanti non sono pronti ad affrontare.